Musica Musica È stata veramente una soddisfazione poter tornare in pista insieme alla Federazione Motociclistica e portare i nostri clienti come ospiti. Questa è una tradizione finalmente che si rinnova dopo un periodo veramente duro legato alla pandemia, finalmente oggi siamo di nuovo qui con i nostri clienti. Qui abbiamo potuto far vivere le emozioni delle gare, ma non solo le emozioni delle gare, le emozioni di provare un a b posto. Adrenalina pura. Bellissimo, una figata. L'emozione di correre in un circuito con una safety car, l'emozione di vivere il team. Musica Insomma, di poter far emozionare e vivere in sicurezza la passione che noi di Total Energies mettiamo con il marchio Elf nello sport e che ci accomuna sicuramente alla passione che la Federazione mette ogni volta nel far crescere i talenti italiani. Una prima tappa sicuramente soddisfacente che ci fa ben sperare per la fine di questa stagione.